Ciao Ciao Wow Sì, mi encanta Ehi, che potrei parlarne io I ragazzi di Amici Bravo Marco, Deborah Una frase proprio fatta, quasi fastidiosa, però La vita La vera avventura, sì, esattamente, la vita La folla si apre E a fare lui Bellissimo Caffone, un orso, un mostro Marco, sei stato ammesso Abc offre alle aziende la possibilità di inserire e comunicare i loro servizi e il consegno della città Abc, è più importante 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 Io ti faccio vedere i tuoi denti! Perché devi essere sempre così stronza? Dai! Alex, scambio! Can you please take us to the airport? I'm supposed to be waiting here, but for you, Mr. Marco, we'll go. I'll get you there. Thank you. Evidentemente non sono stato abbastanza chiaro. Questa cura permetterà a no stressante. È la gran pausa. È la gran pausa! È la gran pausa! È una gran pausa! Non faresti! Io sono Marco Cantotti-Vannini. Mi piace. Pergizio. Ma ci stanno in un attimo in cui veramente è successo. Sì, ma non è poi sì. Sì, ma non è poi. Sì, ma non è poi. Sì, ma non è poi. Sì, ma non è poi.